Ciao sono Arianna e sono un insegnante di yoga di Rovereto. Ho deciso in questo momento nel quale non è possibile purtroppo praticare tutti insieme nella stessa stanza, ho deciso di filmare alcune lezioni. Può essere un'occasione per i miei allievi che già praticano con me per mantenersi in contatto, per continuare a fare quelle cose che si facevano prima di questo momento particolare, storico, nel quale ci viene chiesto, ed è giusto che noi rimaniamo in casa, appunto di mantenere l'abitudine a fare almeno un'ora alla settimana, o comunque dato che siamo in casa c'è la possibilità di farlo più a lungo, magari due o tre volte alla settimana, e anche può essere un'occasione per chi magari non mi conosce, per chi non ha mai praticato prima yoga e non sa neanche di che cosa si tratti, può essere un'occasione per iniziare. Troverete dei brevi video, dei video di circa 15-20 minuti, dove ogni volta vi spiegherò anche che cosa andremo a fare. Possiamo unire magari, lascio a voi la scelta di unire questi video, quindi vi consiglio sempre di fare prima un piccolo scioglimento che troverete, poi decidere quale zona del vostro corpo, con quale zona del corpo andare a lavorare, quindi magari se volete una pratica più mirata alla schiena, magari oppure più mirata all'apertura del bacino, delle anche, oppure ad allungare tutta la catena posteriore, quindi la parte posteriore delle gambe, del cosce e della schiena. Quindi lascio un po' a voi la scelta. Troverete appunto queste brevi lezioni, potrete scegliere a vostro piacimento. Vi chiedo magari di segnalarmi quello che vi piace, quello che magari non vi è piaciuto o se preferite che vada un pochino più in profondità, spiegare magari meglio determinate parti. Vi chiedo appunto dei feedback, sia positivi che negativi, come preferite ovviamente siamo nuovi, anzi nuova queste tecnologie ed è molto strano fare lezione senza insomma avere una risposta immediata. Ecco, quindi spero vi piaccia, spero sia un'idea gradita e grazie mille e namastè. A presto!